ciao ragazzi bentornati sul canale e oggi andiamo a spacchettare insieme questo enorme pacco di hemp che abbiamo visto su instagram che era arrivato giusto l'altro giorno mi scuso per la luce perché è quello artificiale ma onestamente avevo proprio voglia di aprire il pacco e di farlo insieme a voi quindi vado a prendere la forbice e apro il pacco e così vediamo cosa c'è dentro il pacco è aperto e io vi voglio avvisare che è sta facendo un sacco ma proprio tantissime offerte ogni giorno per il periodo natalizio che oggi c'è proprio un'offerta dedicata ai fanco e stesso tema di cui tratteremo oggi in questo video io andrei a spacchettare perché sono super curiosa perché è arrivato un'esclusiva che aspettavo da tantissimo più un pop che volevo da tantissimo qua come al solito abbiamo modulo di reso fattura eccetera poi qua abbiamo un regalo un buono sconto che è questo ma andrei a vedere i due pop che sono questi allora togliamo la scatola di mezzo e a questo giro ragazzi sono solamente due fanco pop ma oggi mi rifaccio perché c'è una mega offerta proprio su amp e quindi ho già il carrello pieno diciamoci la verità felicissima perché uno di questi due è un exclusive arrivato proprio da poco su amp e ci tenevo tantissimo ad averlo l'altro diciamo è un pop che ci tenevo comunque ad avere ma è una versione regolar semplicissima andrei ad aprirli ma prima schiaccerei due pluriball giusto per togliere lo stress di questa giornata come al solito teniamo la chicca per ultima e vi faccio vedere il primo che è coreline numero 422 che è quella dove c'è il gattino mollaccione che io adoro ed è stato rifatto in una maniera fantastica mi piace un sacco e dove c'è lei che ha la maglietta con le stelline sono veramente adorabili cioè adorabili è tutto questo pop a me questa wave sta piacendo un sacco qui a lato come al solito troviamo l'artwork di lei col gattino e qua tutto lo sfondo di bottoni quindi uguale a quella che avevamo visto in versione bambola e qui dietro troviamo i soliti personaggi quindi abbiamo coreline con il gatto coreline in versione con impermeabile che questo manca la versione bambola che è quello che abbiamo visto insieme magari vi lascio il link qua sotto poi abbiamo mister bobinski con il mouse con il topoleno che è bellissimo e devo acquistare anche quello e poi abbiamo l'altra madre che sinceramente tra tutti è il personaggio che mi piace meno ragazzi lei è semplicemente deliziosa io l'adoro ancora di più di quella in versione bambola abbiamo proprio la solita acconciatura sua con la bellula come ferma capelli abbiamo queste lentigini che sono adorabili mi piace un sacco e devo dire ragazzi l'hanno pitturata davvero molto bene cosa che normalmente insomma c'è sempre qualche cosa che non va abbiamo per l'appunto la maglietta stelle e poi il pantalone si vede poco quindi ve lo avvicino si vede pochino ma si vede a questa zigrinatura e poi abbiamo il piedistallo con i suoi stivaletti azzurri il retro non ci nasconde nessuna particolarità eccezionale se non che vediamo la posa la vediamo un po meglio dove lei praticamente appoggia la manina sul fianco e devo dire che mi piace parecchio perché mi piace che i pop abbiano pose diverse e questo secondo me a lei sta benissimo poi abbiamo il gattone mollaccione che ha gli occhi proprio di questo azzurro molto goff tra l'altro mi piace un sacco faccio un po fatica a riprenderlo perché la luce è un po quello che è oggi e mi scuso ma devo dire molto carino anche la posa è fantastica proprio è lui cioè spiccicato identico meglio di così secondo me non potevano farlo ed ecco il mio adorato Funko Pop di Coraline in versione pigiama con questo zucchero pilato in mano e questa è la scena dove lei va nell'altro mondo e assiste al circo di Mr. Bobinski quindi dei topi ballerini ed è una scena secondo me molto bella tra l'altro questa se non erro è un'esclusiva box launch abbiamo come al solito l'exclusive di Amp il bollino davanti è il numero 424 a lato come al solito troviamo il nostro artwork e sul retro i soliti personaggi devo dire che la box di Coraline quella con il gatto mi è arrivata perfetta questa invece è leggermente piegata qua a lato e mi dispiace moltissimo perché come sapete io guardo anche questa cosa però adesso vedo se fare il reso oppure no perché comunque mi scoccia mandarla indietro e tanto non è chissà che cosa però va bene diciamo un pochino di fastidio mi fa infatti se vedete gli angoli qua sopra e sotto sono un pochino rovinati ma adesso andiamo a vederla spacchettata dire che è stupenda ragazzi è dire veramente poco mi sono accorta ora che è in calzini questi qua che sono tipo un giallo paglierino proprio leggero leggero poi abbiamo questo pigiama di sfondo arancione con questi qua un po' gialli un po' azzurri anzi no quelli azzurri sono i bottoni scusatemi i pois sono fucsia e gialli e poi ragazzi ha anche lo smalto sulle dita io non so se si vede ma veramente si guardate qua si vede un po' meglio e lo zucchero filato ragazzi mi viene veramente voglia di mangiarlo tanto è fatto bene veramente bellissimo niente da dire abbiamo anche qua il fermaglio a libellula e qui dietro come al solito nulla di speciale e queste sono le mie novità fanco vi consiglio di andare sul sito di amp che oggi ci sono gli sconti proprio dedicati al mondo fanco vi chiedo ancora scusa per la luce ma ci tenevo a cercare di postare almeno un video al giorno io vi mando un bacione al prossimo video ciao